Un anno di attività sui banchi dell'opposizione. Il Partito Democratico fa il punto della situazione. Ascoltiamo i nostri microfoni Maurizio Mangialardi, capogruppo PD in Consiglio regionale, e Anna Casini, consigliere regionale PD. Noi avevamo preso con favore la disponibilità che aveva dato nei pochi interventi il Presidente Acquaroli di collaborare per trovare soluzioni vere per la nostra regione. Ovviamente abbiamo continuato su questo tipo di percorso, sono state ovviamente nessuna presa in considerazione con risultati che penso che i cittadini incominciano a percepire. Non c'è stata una programmazione, non c'è stata una pianificazione, non ci sono state iniziative importanti se non una serie di annunci ai quali poi non hanno corrisposto azioni efficaci. Penso per esempio al discorso delle vaccinazioni, questa schizofrenia della Giunta che da un lato dice, come dice Saltamartini, di voler tendere all'aumento dei vaccinati, dall'altro invece alcuni membri protestano contro le vaccinazioni e ammiccano ai Novax. E non è un caso se siamo terze in Italia le Marche come regioni, no prima c'è Bolzano mi pare, la provincia autonoma di Bolzano, poi la Sicilia, poi le Marche, per numero di lavoratori non vaccinati, 91 mila nelle Marche. Quindi abbiamo questo brutto record proprio perché il cittadino non comprende e non capisce. Stiamo ancora aspettando per la sanità che riaprano i piccoli ospedali, così come era stato detto, in campagna elettorale ingannando i cittadini e siamo anche in attesa di pianificazioni settoriali di tutti i generi. Io penso per esempio alla ricostruzione ci si sta, come dire, vantando di un'accelerazione che è determinata soltanto dalle ordinanze fatte nel 2020, all'inizio del 2020 dal commissario Legnini e di queste stiamo appunto godendo tutti e stanno godendo i cittadini, ma non è certo merito alla regione Marche.